L'ASP di Messina ha adottato la procedura di telegestione degli esami radiologici in urgenza ricorrendo alla telemedicina collegando l'ospedale Santissimo Salvatore di Mistretta all'ospedale di Sant'Agata Militello. Una procedura adottata con delibera dell'ASP del 13 novembre scorso che si rende necessaria per fronteggiare la carenza di personale nell'orario di turno notturno dalle ore 20 alle ore 8 oppure nei giorni festivi dalle ore 8 alle ore 8 in assenza di un medico radiologo. Si tratta di accertamenti medici da fare in urgenza indifferibile e in emergenza per una reperibilità dedicata anche in caso di guasto tale da non poter assicurare le migliori prestazioni sanitarie. Il servizio si sviluppa attraverso il contatto tra il medico richiedente e il medico radiologo che controlla il processo in telegestione e referta l'esame. Questa è tutto tranne che una buona notizia poiché come al solito viene penalizzato il Santissimo Salvatore. Per ora il reparto di radiologia si trova anche in sottonumero poiché vi sono attive solo due figure mediche su quattro previste. In tutto ciò non si sottolinea che nel caso in cui non ci sia un medico alcuni esami specifici tipo TAC con mezzo di contrasto o ecografia non possono essere effettuati per telemedicina ma solo di presenza e quindi un paziente che necessita di questi esami deve essere caricato su un'ambulanza e trasportato a Sant'Agata Militello con i disagi che ne derivano sia per l'utenza che per il personale medico e paramedico. Inoltre ci dicono che se la telemedicina dovesse riscontrare dei problemi di linea e quindi non può essere effettuata il medico di Sant'Agata Militello deve partire verso Mistretta per assicurare il servizio. Disagi su disagi, sprechi su sprechi. Ora come ora il nosocomio di Mistretta più che un ospedale può essere definito un teleospedale poiché oltre alla teleradiologia esiste anche la telecardiologia e questo tipo di servizi non hanno vita lunga.